ma io ho una polizia ma che polizia ho? che ne so? ti stanno accendendo? ti ti appiero è polizia? no no no, rigore, rigore si si, puoi, puoi puoi, puoi, a casa puoi, a casa pa, 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 pa diciamo come va? prego, corso senti anche la foto prego, potremmo se no eccolo su eccolo like non so se abbiamo fatto bene a tuo cavo mi vedo più a chi vi vedo